Siamo all'interno dell'Arizona Memorial, USS Arizona Memorial. Qui un tempo c'era appunto la nave USS Arizona, una delle principali della flotta americana che venne affondata la mattina di domenica 7 dicembre 41 dei giapponesi. Questa nave andò giù a fondo portando a sé più di mille persone ed è incredibile come ancora oggi si riescano a vedere i resti di questa nave. Proprio sotto il nero. E' davvero impressionante la testimonianza di uno degli eventi più cruenti e più noti della Seconda Guerra Mondiale che spinse poi gli Stati Uniti a entrare in guerra contro il Giappone. La guerra poi si conclusa nel 45. Quindi è possibile visitare questo sito con un tour anche organizzato all'Italia. Contattateci per tutte le informazioni. All'interno di Leonardo